Ciao ragazzi, buongiorno a questo nuovo video che oggi festeggio con altri amici che compiono gli anni anche loro festeggiamo così con altri amici e oggi andiamo a mercaografita a pranzo e vi voglio portare con me, farvi vedere che cosa mangio, cosa facciamo oggi soprattutto perché voglio dirvi che veramente il mio compleanno sarà domani, non oggi perché io sono nata il 10 e oggi è il 9 dicembre e li voglio festeggiare oggi perché è domenica e alcune persone sono a casa solo qui alla domenica e sabato e voglio festeggiarli adesso sono fuori, Yana? E ho una cagnolina, Yana? guardate, datemi i bacini, sì? e ci vediamo dopo ah, io mi sono già fatta, mi sono appiestratta già i capelli dopo faccio colazione, mi preparo e sono pronta per uscire già in merca Graffiti ho già deciso cosa prendermi da mangiare e siamo tanti persone più amici che sono da tanto tempo siamo amici ho deciso cosa prendermi della carne d'agnello che sono le costine d'agnello e sono vestita così, scusate ma sono in bagno che mi piace questo effetto qua con i brillantini, mi piace troppo e il pizzo che c'è qui e l'ho dopo e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da mangiare e da bere ho preso le costine, gli annulli, la rizzo alta, la rizzo alta e mi sono preso un po' ancora per vedere cosa ho mangiato abbiamo già aperto i regali e vi dico che ho mangiato abbastanza bene mi è piaciuto quello che ho mangiato e ho mangiato tutto ma i regali mi sono spiaciuti e più presto vi farò la haul dei miei regali il mio cumpleanno adesso mi sono struccata e adesso mi riturco per stasera che è un'altra festa oggi pomeriggio non abbiamo fatto niente ci siamo richiusi in casa che siamo andati a vedere un film e non siamo andati in giro e adesso mi faccio trucare da un'amica che è da tanto che non lo vedo è bello perché ho avuto i parenti che è affezionati amici molto stretti poi è rimasta la mia amica Nicola che si chiama così tutta la sera abbiamo guardato un film tutti insieme al pomeriggio su un film che viene chiamato molti sformature di grigio l'inizio di un film che è un po' strano anche che è un po' noioso ma anche un po' che mi piace non è male come film poi a pomeriggio alla sera è rimasta qui con me due amici e tutti gli altri sono andati a mangiare nella casa propria e poi sono ritornati e ho fosteggiato veramente con gli amici, parenti e tutto il resto con la torta e la torta era venuta buona e io tutti gli anni ho sempre fatto così che con i miei amici che ho appena conosciuto farlo con loro e gli amici di famiglia e parenti e tutto il resto li facevo in un altro giorno di sera o stare con loro per me è meglio io sono fatta così che a me piace stare in compagnia festeggiare con gli altri se a voi piace la stessa cosa che penso io vorrei che commentate e mi dicete tutti i vostri commenti meglio e sono contenta perché è stata una domenica che mi è piaciuta perché a me piace stare in compagnia e questo mi piace ok, adesso vi ho detto tutto quello che abbiamo fatto in generale voglio che mi mettete 7 mi piace o 7 like iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao